Ciao, ciao, ben ritrovati alle chicche formative anche questa mattina. Perdo milioni di cappelli in questo periodo, vabbè. Imperativo strategico, cavalcare il mutamento in atto. Demostene, 350 avanti Cristo. 2020, 8 aprile, siamo in questa condizione. Cavalcare il mutamento in atto, perché è un mutamento grande, forte, importante quello che sta avvenendo. Un mutamento di abitudini, un mutamento di tecnologie, un mutamento di relazioni, un mutamento di modalità. Quindi è un forte mutamento. Perfetto, ieri ho fatto la chicca su o mangio a sta minestra o salto dalla finestra e oggi vi cerco di spiegare che cosa significa. Perché ogni tanto mi capita di parlare con alcuni di voi che poi mi dicono, sì però ma questa cosa non è nel mio carattere. No, senti guarda, il tuo carattere è una roba, quello che serve in questo momento è un'altra. Cioè uno non può dire, non è nel mio carattere o non è nelle mie corde, fare, parlare con i clienti via Skype. Perché o lo fai via Skype o non lo fai. Cioè puoi usare il telefono, puoi usare Skype, puoi usare Face, puoi usare tutto quello che serve in questo momento. Ma è quella la strada. Cioè oggi al bar, a bere il caffè col tuo cliente, non ci puoi andare. Quindi se non è nel tuo carattere parlare con i tuoi clienti o cercare di fare sviluppo attraverso le nuove tecnologie, eh mi dispiace per te ma è un grosso problema. Perché oggi e nel futuro, nel futuro a breve e nel lungo termine ci sarà questo. Ci sarà un cambiamento epocale. Quindi non puoi venirmi a dire, non è nel mio carattere. Cosa devo fare io con voi? Quando fate così, vuol dire che non vi rendete conto che questi sono ragionamenti da bambini. E perché nel mio carattere pulire la casa tutti i cazzo di giorni che non lo sopporto, che mi cade tutto per terra e mi tocca ripulire un'altra volta, è nel mio carattere. Non lo è, ve lo dico chiaro, non è nel mio carattere. Io detesto fare le pulizie. Anche quando ero una ragazzina che avevo pochi soldi, che guadagnavo poco nel mio stipendio, una parte di quello stipendio andava piuttosto, bangiavo pane e cipolle, ma le pulizie le facevo fare. Quindi immaginatevi se nel mio carattere pulire continuamente la casa. Non lo è, però lo devo fare, perché adesso non ho altra soluzione. Lo devo fare. Quindi cercate di mettere da parte quello che è il carattere o non il carattere, o le mie corde o non le mie corde, perché l'imperativo strategico è cavalcare il mutamento in alto. Bisogna innovarsi in questo momento, ma anche l'innovazione deve partire dalla testa. Perché se tu non fai partire dalla testa l'innovazione, non ce la fai poi a stare dietro ai tempi. Allora, per tutti quelli che erano vicini alla pensione, che pensavano, vabbè, dai, tanto mo' mancano due, tre, quattro, cinque anni, me la svango via, vivo di management fee, faccio poco e niente, chiacchiero, gioco a golf, faccio questo, faccio quello, beh, adesso non si può fare, perché a golf non ce puoi giocare. Al bar non ci puoi andare. Cazzeggiare lo puoi fare solo dentro casa, ok? Quindi, sai, cazzeggiare dentro casa, cucina, bagno, salone, studio, per quelli fortunati che hanno una casa abbastanza grande, per quelli che hanno una casa piccola, con quattro bambini dentro, il cazzeggio è pesantissimo. L'altro giorno parlavo con un manager che, ci stavamo scambiando delle soluzioni per poter offrire al suo gruppo di fare un minimo di formazione basica, appunto la pandemic business coaching base, e la risposta è stata, sì, però adesso lasciamo passare Pasqua, ci sentiamo, perché adesso si ferma tutto, ci sentiamo dopo Pasqua, e io sono scoppiata a ridere. Comunque ci fermiamo per Pasqua, siamo già fermi da più di un mese, ci fermiamo anche per Pasqua, ma io sto lavorando i giorni sabato, la domenica, la sera, cazzo me ne frega di Pasqua, sono a casa, per me un giorno vale un altro a sto punto. Cioè, veramente, c'è gente che non riesce a entrare nel cavalcare il mutamento in atto, oggi non c'è il sabato e la domenica, oggi si sta lavorando più, ma grazie a Dio, se lavori ti passa il tempo, perché se no non sai che cosa fare. Quindi, cercate di capire che non è un momento transitorio punto e basta, è la svolta di un'epoca, è la fine di un'epoca lì, inizio di un'epoca nuova. Chi era già semipronto, adesso sta facendo raccolta, chi non era pronto, adesso deve, insomma, o parti o non parti, o lo cavalchi o non lo cavalchi, o mangi sta a minestra o salti dalla finestra, non so quanti sopravviveranno nel lungo. Vabbè, io ve lo continuo a dire, se volete che vi dica, io ve lo dico, ve lo dirò tutti i giorni, qualcuno ogni giorno lo convinco, per fortuna, ok? Dai, io ci sono, se avete bisogno, abbiamo protocolli di tutti i tipi, da quello base, con un investimento minimo, a quello completo, ai corsi, adesso il 16 c'è quello sui salotti finanziari digital, solo per chi fa coaching, e poi ce ne sarà un altro verso fine mese, aperto a tutti, proprio per aiutarvi almeno, almeno quelli che hanno fatto il corso sui salotti finanziari con me, e sono tanti, quindi sono migliaia di persone, che già quindi sanno più o meno vagamente come funziona il salotto finanziario, adesso c'è il salotto finanziario digital, quindi saranno i più avvantaggiati. Fine mese ci sarà il corso, oggi penso lancerò un post qui sui social, dove potete già fare l'iscrizione, ok? Ciao a tutti!